bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 siamo in un nuovo episodio di minecraft signori allora piccolo particolare questi gatti hanno iniziato a rompere le scatole per non dire altro signori abbiamo la base piena di gatti che vanno correndo base base hanno decisamente rotto le scatole signori detto questo prima di partire col video io vi ringrazio per i racchi per i commenti presenti e per il supporto che date alla serie vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno ci usciremo non lo so ma io conto su di voi signori per raggiungere questo obiettivo detto questo allora noi lo scorso video abbiamo recuperato i libri di mending o come si dice in italiano di riparazione e li ho messi in questa cassa di qualcosa cazzarola ci fa quattro libri bene cosa cazzarola ci faceva il gatto sul sul letto troppi gatti troppi gatti signori allora io sono un amante degli animali sia dei gatti cani polli mucche di tutti quanti però ognuno deve rispettare il proprio spazio decisamente sì decisamente sì signori cosa facciamo nel video di oggi come avrete letto dal titolo anche se in questo momento non so neanche che titolo avrà questo questo video e andremo a fare a sistemare il magazzino ebbene sì dobbiamo sistemare il magazzino infatti sto raccogliendo un po di legna perché ce ne servirà molta anzi tantissima prima cosa da fare allora il legno diciamo che più o meno ce l'abbiamo un pochino lo possiamo sfruttare questa sfruttare anche questo nero e lo trasformeremo tutto poi abbiamo bisogno delle pelli pelli ne abbiamo 62 anni ammazzare un poco di mucche anzi facciamo riprodurre un poco di mucche facciamo anche riprodurre i polli e facciamo un pochino di come posso dire di aspettate fatemi le valse torce dalle mani perché sono la cosa diventa grave inizia a mettere torce ovunque sono riprodurre tutte queste belle mucchette quanti quanto quanto grano avevamo 30 pezzi sì anche lo stiamo spiegando tutto lo stiamo spiegando tutto gli ultimi tre pezzi venghino signori mucche venghino dai abbiamo tre pezzi quali volete via che due sono andati manca l'ultimo dai dai un ultimo pezzo perfetto ok al centro ci sono tutte le mucchette piccoline lateralmente ci sono le mucche grosse che andremo a sacrificare nessuna mucca sta venendo maltrattata signori hanno tutte firmato un contratto prima di iniziare questa serie sapevano che avrebbero fatto questa fine ok direi che come carne ci siamo come pelli ne abbiamo 64 più 24 ci vengono un bel po di cose interessanti quindi diciamo che va bene a questo punto andiamo anche dai nostri amici polli che non stiamo cagando niente di striscio da quando abbiamo fatto loro questa bellissima struttura mi hanno dato un ovetto che carini uno solo hanno dai qualcuno c'è ok signori i polli vengono a me i polli riproducetevi e fate nuovi polli per me intanto mi tiro le uova uno ok due che culo signori su quattro su quattro uova due polli due polletti dai si sta si sta aspettate mi manca un pollo uno piccolino all'altra è qua sotto ok dai si sta popolando anche la zona dei polli allora mentre con calma e sangue freddo qui recuperiamo le canne da zucchero signori che ci serve poi la carta per recuperare l'altro mending come si dice in italiano gli altri libri di ripristino e ci servono quindi dovremmo andare a ripristinare tutto quanto quindi mettiamo le canne da zucchero al loro posto riposiamo i semi al loro posto e questi buttiamo abbiamo troppi semi e pochi polli signori troppi semi e pochi polli sinceramente mi sono rotto le scato via allora io direi in primis in primis un passaggio che non serve minimamente però lo andiamo a fare evitiamo tutti questi semi grazie recuperiamo un secchiello di lava così cuociamo la carne e con il cibo siamo messi bene e col cibo così siamo organizzati organizzati nel video di domani inizieremo l'acquario inizieremo l'acquario sì non so se ci vorranno due o tre video non lo so lo vedremo strada facendo ma inizieremo il progetto acquario allora mettiamo a cuocere tutta quanta la carne così siamo belli tranquilli poi facciamo tutto quanto è possibile facciamo tutti gli sticchettini dovremo fare tanti sticchettini signori iniziamo un tanto da questo iniziamo da questo trasformiamo tutto ok iniziamo a fare una botta di sticchettini perché comunque per fare tutto l'ambaratan delle pelli ci servono tutti gli sticchettini ok 64 più 4 mi bastano inizia a fare anche una botta di casse perché senza casse messa non se ne canta non è proprio così 11 casse mi bastano mai nella vita trasformiamo tutto questo dai così dai così ora non so se riusciremo a farlo a riempirlo oggi tutto con le casse però mi interessa 21 21 io non so solo quante casse c'è sinceramente vengono a fare un altro poco 21 22 23 da moda così dai e 24 aspettate ne manca uno questa mettiamo qui e abbiamo un altro abbiamo 24 casse signori 24 casse di conseguenza ci servono un bel po di item frame che abbiamo ottenuto pure adesso ok abbiamo 24 casse e 8 item frame ci basteranno non penso minimamente allora di sicuro in uno ci dobbiamo andare a mettere tutta sta cazzola di vita in uno ci possiamo mettere il kelp in uno ci possiamo mettere il vetro però mi dico la normale ok poi cosa abbiamo qui le frecce le frecce per il modello sempre a portata di mano che sarebbe la cosa migliore a qui c'è dell'altro vetro che possiamo passare di là e in uno possiamo metterci tutta questa ciambo taglia ok in un altro possiamo metterci drop varie dei mob quindi tipo questo dovrebbe avere le stringhe poi piano piano ci riportiamo con calma argilla che semplicemente ne stiamo raccogliendo tanto di argilla dovrebbe dare volta argilla infatti altra argilla la ghiaia ok pretisco un pietrisco muschioso vabbè lo facciamo con questo e poi con calma ce lo portiamo di qua cosa possiamo eliminare velocemente il rame che ci sta il carbone che ci sta al capo non ce lo teniamo qua e la redstone per forza loro direi pure di portarcelo sopra che tanto non ci serve a niente qua sotto anche gli smeraldotti li portiamo sopra diamantotti no diamanti ci teniamo qua e il ferro no dai il ferro lo portiamo pure sopra poi il ferro voleva lingotti si mettiamo un lingotto di ferro e va bene qui invece cosa cazzo lo abbiamo allora di sicuro questo che il nether nether il pietrisco lo facciamo con quello va bene ma iniziamo un attimino a a capire a capire un attimo la situazione signori mamma mia da quant'è che non andiamo al magazzino questa è una volta per chi si fosse collegato da poco signori era il nostro mob spawner poi e l'abbiamo modificato totalmente per renderlo il nostro magazzino perché pensando che abbiamo trovato la farm di scheletri l'abbiamo fatto che cazzo allora ci fa la mucca qua sopra mucca ovunque mucca ovunque porca miseria allora iniziamo a mettere un po po di casse come se non ci fossero domani riusciremo a completarlo tutto oggi ma non lo so signori mi sta avvenendo un forte dubbio perché penso fosse un lavoro più veloce e invece mi sa che un lavoro proprio rottura di scatola tre casse così no sinceramente no facciamo il lavoro giusto quantomeno ok perfetto è questo possiamo entrare qua dopodiché partiamo con gli itens fine ma però vediamo se dentro ste casse già c'era qualcosa quindi niente qui ci sono cianprosaglie varie le frecce ovviamente me le devo portare a questo alberello non so che cazzola ci faccia qua questo me l'ho portato no va bene allora iniziamo con mettere questo qua e qua ci mettiamo questo perfetto e dentro questa cassa ora ci andremo a svuotare tutta sta cazzola di pietra poi qua sotto possiamo metterci questa di qua ce ne mettiamo solamente uno e metà di questo così ce l'abbiamo come riferimento poi facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così facciamo aspettatemi queste queste sarebbero di questi caso finiti sempre ottimo perfetto bene bene neanche il tempo di iniziare allora allora qui potremmo metterci il vetro qui ci potremmo mettere il vetro e sopra ci possiamo mettere la sabbia ci sta qua potremmo metterci tutte le cianprosaglie di questo tipo di pietra di qua quindi tutta la varia ghiaia andediorite andesite cazzite ok qui abbiamo detto che abbiamo questi drop che non c'entrano niente ok e li andiamo a mettere mi metterei qua io questi drop che non c'entrano niente tipo la carne marcia del del mi stiamo organizzando bene assolutamente no tipo la carne marcia lo possiamo mettere qua così poi per sotto ci mettiamo gli occhi di spider poi ci mettiamo le stringhe e poi ci mettiamo la anche la la polvere da sparo ok la polvere da sparo poi niente poi non abbiamo altro da fare praticamente perché abbiamo finito di time frame praticamente di time frame possiamo farne qualcun altro penso di sì penso di sì mi sto dimenticando che abbiamo una crafting table qua solo signori allora dai e così altri otto dammi le pelli perfetto dammi otto di questi questi li metterò qua ok qui ci abbiamo messo questi di qua da questa parte potremmo metterci quelle di qua questo e questo questo e questo questo e ti levi mucca questo e questo e qua mettiamo la torcia che non ho ma però posso recuperare ok metterla qui e qui mettiamo la torcia e poi mi restano questi due questi due va bene iniziamo un attimino anche a mettere i minerali così me ne libero un attimo e allora abbiamo qui ci metterei ferro un po di ferro così e anche la tele tramogge ok qui potremmo metterci no no me lo dai grazie gentilissimo potremmo metterci loro ok così loro lo mettiamo qui e siamo tutti belli contenti perfetto qui ci mettiamo gli smeraldozzi e siamo tutti contenti abbiamo solamente sei però sappiamo che ci sono ok cui ci mettiamo la redstone che però così non mi piace quindi la facciamo così perfetto e anche la redstone signori ce l'abbiamo piazzata ok e qui ci mettiamo il rame così ce lo siamo levati pure dalle scatole non si vede tantissimo però poi metteremo quello grezzo perché mi sa che non si vede tantissimo cosa mi resta mi restano le pelli mi resta il kelp che però metterlo qua non mi piace il kelp lo mettiamo qua sotto dovremmo fare anche una farm di kelp signori l'obiettivo è anche fare una bellissima farm di kelp e poi le zolle di argilla non ho più sticchiettini c'è un piccolo problema tecnico tattico dobbiamo sistemare anche la netherrack la netherrack che possiamo mettere qua dai e così ok perfetto piano piano l'organizzazione funziona qui ci mettiamo la sabbia che dovremmo comunque recuperare un gran quantitativo di sabbia legno lo possiamo lasciare sotto al massimo facciamo una cesta qua sopra che contiene legno allora di qua dovremmo scendere veloce senza farci male perfetto ok è calata la notte vado a dormire perché mi ha rotto un attimino le scatole tutta sta pioggia è decisamente per così dormendo dovrebbe un attimino sistemarsi e così dovremmo portarci un po più di tranquillità recuperiamo un po di legno mi ha fatto degli altri sticchettini signori degli altri sticchettini bravissima che già mi ha dato mi ha droppato l'alberello dove sta l'alberello perfetto piazza l'alberello qui uno qui e uno qui ok allora iniziamo a fare un attimo di mente locale cosa abbiamo sistemato le frecce per metto che le possiamo lasciare qua ok allora ghiaia queste sono tutte cianfrusaglie che ci possiamo portare il pietriscolo ce lo possiamo portare questo ce lo possiamo portare la carne no lander per se lo slime però non saprei dove metterlo il tappeto bianco con la lana che attualmente non abbiamo le ossa me le posso portare il fango lo mettiamo nelle cianfrusaglie il vetro ok le lastre di pietra ce le possiamo portare e va bene con calma con calma qui sopra che cosa abbiamo andesite che ci possiamo portare ghiaia tuffo pietro lastre di pietra ok blocco questo non so come questo ci possiamo portare il granito ci possiamo portare e stoppiti con calma signori con calma con calma e capiamo anche piano piano i vari spazi che andiamo a occupare giusto fare tutto in maniera in maniera in maniera simpatica voglio fare un ascensore veloce anche qui per salire al magazzino ma sinceramente avendo fatto la discesa da 4 è un pochino complicato allora nella cassa delle cianfrusaglie qui mi sono portato qualcosa da mettere qua dentro si le ossa dai così e le ossa ce l'abbiamo poi andiamo nella cassa del dei materiali quasi inutili mettiamo la ghiaia mettiamo l'andesite mettiamo portato anche la diorite no va bene qui ci mettiamo questo il tuffo lo dobbiamo mentre la pietrisco lo mettiamo di qui qui sotto ci andiamo a mettere questo è questo ok però non spero questa è la mezz'ora mio il tuffo lo mettiamo di qua ok il tuffo abbiamo messo di qua qua abbiamo altre due casse e andiamo a fare così andiamo a fare così perfetto andiamo a fare così con questi di qua così perfetto dove mi mancano a me i simboletti allora i simboletti mi mancano qui perfetto e questo direi di levarla questa torcia fare così allora qui possiamo andarci a mettere intanto l'argilla e poi vediamo cos'altro ci possiamo andare a mettere qui nel blocco di pietra ci andiamo a mettere pietrisco muschioso e le lastre normali perfetto nel vetro ci andiamo a mettere questo tipo di vetro di qua il fango di poterlo mettere qui perché tanto non penso che ci servi tanto e anche il granito ok piano piano stiamo dando stiamo dando un senso a tutto signori queste frecce sono quelle nostre non facciamo confusione l'alberlo dobbiamo portare giù e qui che ci possiamo mettere l'ender per ma si mettiamoci l'ender per signori così abbiamo anche una cassa di ender per se poi ci verranno a mancare le casse vedremo come poterle migliorare allora possiamo tanto salirci tutto il rame tutta la redstone si facciamo spazio anche nella cassa principale andiamo a posare c'ho un alberello in alimentare non è vero si andiamo a a posare l'alberello dell'inventario questo di qua lo mettiamo qui il ferro lo teniamo di qui queste le mettiamo di qui che ci possono servire vediamo ora poi qua cos'altro c'è che si può levare allora abbiamo detto la redstone lo possiamo portare il rame ce lo possiamo portare in todos ok il ferro in todos si blocco ai quarzo anche una cassa per il quarzo per il quarzo lo mettiamo insieme alla mall andesite lì quello che cazzarola è questi ci riportiamo pure e direi che per ora va bene perché il carbone me lo terrei qua questo non lo terrei qua loro ce lo possiamo portare queste due nei intag ce le portiamo pure così leviamo cianfrusaglie e qui cosa è rimasto questi dischi possiamo fare una cassetta di cianfrusaglie e metterci dischi le catene un'altra cassetta cianfrusaglie blocco di muschio questo di fango la carne la lascerei tutta qua questo che attualmente non c'entra abbiamo avere un inventario così piccolo non è la cosa migliore del mondo nella cosa migliore del mondo vabbè comunque signori allora più o meno avete capito il mood del video di oggi in cui stiamo sistemando tutto quanto già abbiamo stava casca già abbiamo sforato di un bel po di minuti diciamo quindi direi faccio un breve taglio sistemo tutto quello che voglio sistemare e poi ci vediamo vi faccio vedere più o meno come è venuta la situazione cambia qualcosa ma sì questo è più carino ok signori allora sono riuscito ad organizzare tutto ultimo viaggio per sistemare l'ultima ardesia profonda che vi farò vedere tutto quanto come l'abbiamo sistemato il nostro magazzino ha preso forma e ancora abbiamo tanto di quello spazio che porca miseria possiamo riempire un mondo questo non c'è qualche gradini mettiamo qua e queste sono i gradini normali mettiamo quasi allora ardesia profonda pietrisco vario questa ancora vuota addirittura vetro perfetto qui tutto materiali che non servono tuffo di orita e qui tutti i materiali del nether nether qui tutti i vari materiali fatti con il legno questa è vuota ottimo ender per e ciambrosaglie varie zolle di argilla e ciambrosaglie varie tutti i drop dei mob sono più o meno messi qui roba vegetale quindi le alghe e il cappetto di muschio e cose varie tutto il ferro che abbiamo tutto loro che abbiamo gli smeraldi la redstone la la prestazione non li ho portati perché ci servono nella zona degli incantamenti il rame questo la metista insieme a quarzo questi altri materiali altri ciambrosaglie varie abbiamo messo così la lana perché dovremmo anche fare una farm di lana signori ebbene sì ebbene sì dovremmo portare anche le pecorelle nel nostro nel nostro nel nostro mondo signori e queste le abbiamo svuotate tutte l'unica cassa che ho lasciato piena è questa di qua in cui giustamente c'è la famiglia di rotare qua vicino e la teniamo qua vicino la cassa di lì l'abbiamo eliminata e poi qui ora c'è tutto bello che sistemato qui abbiamo solo le come cazzo si chiamano i bambù qui abbiamo solo comunque le cose strettamente legate alle farmie che non qui vicino gli altri li abbiamo sistemati che non solo gli alborcelli i legni quelli compatti e legni quelli invece già lavorati e all'interno della nostra casa signori abbiamo questa che finalmente vuota qui che ci mettiamo i libri di ripristino qui che abbiamo solo materiali più preziosi mele diamanti questo per chi serve per fare l'acquario e il carbone qui oggetti da mangiare e qui signori miei oggetti per diciamo utensili utensili varie abbiamo tutte le frecce le metto per andare nel nether un'armatura di cavallo dobbiamo anche portare un cavallo signori la canna da pesca quella incantata e in vari altri materiali del tutto quasi inutili detto questo signori mentre sta accadendo la notte io vi ringrazio questo video che ringrazio per like per i commenti precedenti e per il sopporto mi mangio una fettina di carne così ci rimettiamo in energia e noi ci vediamo domani signori con un nuovo progetto per un nuovo episodio della minecraft ita di mauro signori bella tutti ciao